E' importante ascoltare compositori come Ligeti e Grisè perché sono due grandi compositori del Novecento, ma questa è una risposta tautologica. E' importante perché hanno lavorato moltissimo sul suono in quanto materia e hanno sviluppato una nuova idea di musica, ciascuno in maniera diversa l'uno dall'altro, ma Grisè sarebbe impensabile senza l'esperienza di Ligeti che la seconda metà degli anni Sessanta ha lavorato sul timbro, sul colore del suono e sulle possibilità offerte dal timbro in quanto parametro musicale svincolato dagli altri parametri tradizionali del suono come la melodia, come l'armonia e come il ritmo. Ligeti ha lavorato proprio sulla qualità materica del suono e da lì Grisè ha preso le mosse per la sua musica spettrale che parte appunto da un'analisi fisica, materica proprio del suono nel suo farsi, nel suo divenire stesso.